Il viaggio del Papa in Sud America è stato assolutamente positivo e soprattutto ha lanciato un messaggio di speranza a tutto il popolo latino-americano. Una chiesa giovane, una chiesa in grande fermento e in grande movimento, quella appunto latino-americana a cui soprattutto noi europei dobbiamo guardare, ha detto il Papa. Un viaggio assolutamente positivo, con un messaggio di grande speranza per tutto il popolo latino-americano. E' questo il bilancio che traccia padre Federico Lombardi, direttore della Sala Stampa Vaticana, della missione di Papa Francesco in Ecuador, Bolivia e Paraguay. Papa Francesco venendo in America Latina ha trovato un'accoglienza straordinaria per padre Lombardi. Il primo aspetto interessante che colpisce profondamente di questo viaggio è proprio la risposta profondissima e amplissima da parte dei popoli visitati dal Papa. Risposta anzitutto di attenzione, di amore, di affetto, ma anche di accoglienza, della sua presenza, ma anche dei suoi messaggi, delle sue parole, come incoraggiamento, come orientamento, come fonte di speranza e di fiducia per il futuro di cui questi popoli hanno bisogno. Il Papa è stato capace di dare un messaggio positivo e di incoraggiamento a questi popoli in cammino e di dimostrare che la Chiesa, con umiltà e con molto affetto, si fa vicina, partecipa e non è separata dal destino di questi popoli, ma anzi è solidale. Parlando del tema del viaggio nei tre paesi, ossia la gioia di annunciare il Vangelo, chiarisce padre Lombardi, era proprio l'ispirazione di questo pontificato che veniva riportata verso il continente latinoamericano. Il Papa annuncia il Vangelo che non è staccato dalle realtà del mondo, ma che è capace di animare l'impegno della Chiesa e di ispirare anche l'impegno di tutte le persone di buona volontà, che hanno un orecchio aperto per il messaggio di questo Papa, che incontra una grande attenzione anche al di fuori dei confini della Chiesa. La Chiesa latinoamericana ha una grande ricchezza e una Chiesa giovane, questo è importante, una Chiesa giovane con una certa freschezza, anche con alcune informalità. E' stato questo il commento di Papa Francesco parlando ai giornalisti sul volo di ritorno dall'America Latina. Una Chiesa, aggiunto, che ha una teologia ricca di ricerca e può dare tanto a noi. In tutti e tre i paesi, ha ricordato Bergoglio, c'erano lungo le strade i papà e le mamme, ma anche tanti, tantissimi bambini. E' un popolo che rappresenta per noi una lezione e per l'Europa, soprattutto, dove il calo delle nascite spaventa un po'. E anche le politiche per aiutare le famiglie numerose sono davvero poche. La ricchezza di questo popolo e di questa Chiesa è che si tratta di una Chiesa viva, sottolineato, chiedendo di imparare da questo a correggere alcuni comportamenti, come la cultura dello scarto. I popoli nuovi, i popoli giovani ci danno più forza e per la Chiesa il messaggio è di non avere paura di questa gioventù e di questa freschezza. Può anche essere una Chiesa un po' indisciplinata, ha concluso poi Papa Francesco, ma col tempo si disciplinerà e darà buoni frutti.